Ma sono tutte le tue? No, però posso usarle tutte le volte che voglio. Ma Benco, formazione e strategie per l'evoluzione del business, mabbmanagement.it Oggi i miei tre minuti suplementari li voglio dedicare a tutti coloro che non vorrebbero mai sentire qualcuno che esprime la sua opinione e vorrebbero che tutti soffiassero alle spalle per poter spingere la squadra e la società nel verso giusto. Quindi quest'oggi il mio intervento accontenterà questa parte che per quanto mi riguarda non è una controparte e non è assolutamente una parte di opposizione, è semplicemente una parte che la pensa molte volte in modo diverso o che addirittura rifiuta di pensare perché pensando allo stesso modo di chi si cimenta nel proprio lavoro, pensa che così possa dare il suo contributo. Quindi si tratta semplicemente di una filosofia diversa. Ecco, secondo questi, secondo me quest'oggi, tutto quello che il Cagli sta facendo è la cosa migliore che possa fare. Deve prendersi il tempo che serve perché non è facile assolutamente scegliere un allenatore, deve cercare di valutare a fondo, non può permettersi di bloccare nessun tipo di calciatore perché bisogna anche portare fuori i soldi e allora o li portiamo fuori noi oppure dobbiamo aspettare che si possa vendere qualche pezzo importante per poter potenziare la squadra perché il nostro livello calcistico è questo. Noi dobbiamo pensare che ormai il target del Cagliari è quello di salvarsi ogni stagione, non può ambire ad altro risultato e quindi è necessario assolutamente che continui a pensare in questo modo. Arriverà il tempo, bisogna avere pazienza, adesso si definirà il passaggio di Nicola e poi si comincerà a guardare alla squadra cercando di capire chi potrà essere anche trattenuto perché ci sono poi i ritorni dei giovani dai prestiti, qualcuno andrà a far parte del ritiro e ci sarà la capacità di saper valutare a fondo quali sono i giocatori che si possono trattenere e quali sono quelli che è meglio dare in prestito, d'altronde anche nel passato lo stesso Barella è diventato un calciatore a Como, non lo era certamente quando era a Cagliari ma è stata l'esperienza di Como che lo ha temprato e quella è stata l'esperienza migliore. Ecco, tutte queste cose perché si possa lavorare in serenità senza che nessuno critichi niente e senza pensare che un pensiero diverso possa essere distruttivo. Dopo aver sostenuto questa causa, questa versione, io continuo a dire la mia. Io amo il Cagliari quanto quelli che la pensano in questo modo ma dico anche che nella mia versione dei fatti, nella mia cultura, nella mia formazione sono critico anche con me stesso e quindi cerco di guardare sempre le cose migliorabili. Se mi voglio bene devo fare così, quindi anche se voglio bene al Cagliari devo fare così, se ci sono delle cose migliorabili sostengo che è meglio dirle invece di tenerle e dirle non vuol dire essere distruttivo ma vuol dire trovare quella parte di crescita che in questo momento non ho ancora realizzato ma che ho potenzialmente la possibilità di fare. Sono tutte le tue? No, però posso usarle tutte le volte che voglio. Mab&Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business.